Il pubblico ha deciso che il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip è... Aristide! Complimenti! Grazie di tutti! Grazie a tutti! Aristide, vuoi ringraziare il pubblico? Grazie! Grazie, grazie! Grazie, grazie! Grazie a voi ragazzi! Vi dovrete sopportare ancora un po'. Aristide! Vi sopporterete ancora un po'. Aristide! Che cosa vuoi dire al pubblico? Posso darti un abbraccio? La cultura ha triunfato Alfonso! Menomale! La cultura ha triunfato!